RECORDATI DI ESSERE SEMPRE GENTILI Devo essere preparata. Che cos'è un rave? Ti farà sentire bene, fidati di me. Non fa per me. È una città che ti confonde, ti sconvolge. Là sotto ho dato il mio primo bacio. Ad una ragazza? Volevo baciare come vedevo fare nei film. Cosa ti ha portato in questa città? Ti amo, Leila. Era da tanto che non mi sentivo al cuore. Sei felice con il tuo fidanzato? Quello che conta per entrambi è andare d'accordo. L'amore arriva dopo. Non voglio che stai in questa città, soprattutto in questa casa. Non è come pensi tu, sono brave ragazzi. Zitta, non voglio scontarti! Forse dovresti smettere di fumare. Cos'altro c'è nella lista? Dovrei smettere con le droghe? O di vestirmi così? Tu credi di poter cambiare il mondo in un giorno? È questa la nostra realtà. Io non cambierò mai il mio stile di vita. Sei pronta per una notte di fuoco? In che senso di fuoco? Nel senso che ci divertiremo.